Due concittadini ricoverati in ospedale e altri 9 isolati in casa. Secondo i dati ASL comunicati dal sindaco nell'ultima diretta Facebook sarebbero dunque 11 bitontini tuttora positivi al Covid-19. La situazione nella nostra città sembrerebbe stabilizzata e anche l'andamento della curva dei contagi in tutta la regione lancia segnali incoraggianti. A fronte dell'aumento dei tamponi effettuati, il numero dei nuovi positivi infatti continua a scendere. A destare molta preoccupazione rimangono però le RSA. Il totale dei casi in Puglia è ad oggi di 2.809, di cui ben 886 nella provincia di Bari. Affinché gli sforzi sinora compiuti non risultino vani, bisognerà però continuare a restare in casa sino al 3 maggio e rinunciare anche ai festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta. Vietato fermarsi proprio ora, quando il traguardo sembra vicino. Eppure il messaggio sembra non essere stato recepito da alcuni cittadini. Proprio ieri la polizia ha sanzionato quattro persone dai 35 ai 45 anni che avevano deciso di riunirsi in un garage di via Mendolagine per giocare a carte. Stessa sorte è toccata qualche giorno fa anche ad altri sei ragazzi, beccati dalla polizia locale a far festa in un seminterrato in via Massimo d'Azeglio. Le forze dell'ordine hanno dovuto anche procedere alla chiusura di un bar pasticceria e un bar tabacchi che violando il DPCM avevano distribuito caffè e vassoi da sporto. I controlli saranno intensificati nelle giornate di domani e dopodomani. Le pattuglie saranno raddoppiate per sorvegliare ancora di più strade, campagne e accessi alla città. Nella stessa ottica si pone anche l'ordinanza di chiusura delle attività commerciali per domenica e lunedì. Sarà consentita solo la preparazione e la consegna dei pasti e dei prodotti di pasticceria dalle ore 8 alle 14. Grazie. 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 Grazie.